Il denaro è oggi il padrone dell'economia. E' possibile ridurre il denaro da padrone a servo di entrambi, cioè a servo dell'economia e della politica? O dobbiamo tenerci questo denaro padrone assoluto di tutto? E' possibile, però chi lo farà? Chi lo può fare? E in che condizioni? Dipende esclusivamente dalla conoscenza approfondita della natura del denaro. Il denaro fa da parola dell'economia e della politica principalmente perché lo si sconosce, non si sa che cosa sia e soprattutto non lo si definisce. Si lega qualsiasi libro di economia, scritto in qualsiasi lingua, si va dal capitolo che va sulla moneta, non c'è una sola definizione di moneta o di denaro se si vuole. Cosa si trova? Si trova fino a quattro definizioni o quattro descrizioni, ma non una sola definizione. Se qualcosa è indefinibile, vuol dire che o non esiste o è qualcosa di diverso da quello che appare. Perché dovrebbe essere possibile definire, come dice San Tommaso, qualunque cosa che abbia un'essenza, specialmente qualunque cosa, visibile. E il denaro effettivamente è visibile. La questione è un'altra, è una cosa, è una res, ha un'essenza. Questo è il problema. Che il denaro sia padrone dell'economia è indiscutibile. Oggi si produce per pagare interesse su debiti, non si produce per sotterire i bisogni della natura umana. Una cifra per tutte. Nel Regno Unito circolano 57 miliardi di sterline in contanti. Sembrerebbe una gran somma, ma non l'è, è una miseria. Perché insieme a questi 57 miliardi di sterline in contanti, vi sono 2200 miliardi di sterline in assegni bancari. In quello che si chiama credito bancario. Vedremo perché dovrebbe chiamarsi diversamente, però atteniamoci alla terminologia corrente. Sono più o meno 40 volte di più. Di questi 2200 miliardi di credito, assegni e strumenti di credito, solamente l'8% va alla produzione di beni e servizi dell'economia reale. E che fa l'altro 92%? Va alla speculazione. Cioè questo denaro viene comprato e venduto come se fosse una merce. E comprando e vendendo produce interesse e ovviamente arricchisce chi fa questo mestiere, chi fa il mestiere di manipolatore di denaro. Costruisce e arricchisce tranquillamente. Da dove viene la sua ricchezza? Da altra gente che perde queste somme favolose di denaro. Poi non viene dalla ricchezza reale. L'economia reale non ha niente a che vedere con tutto questo. domandiamoci ma perché? Perché succede tutto questo? È possibile definire la moneta? Beh, questo è certamente lo valore importante. Vediamo un po' se c'è qualche ostacolo che impedisca questa definizione. Bisogna cominciare da lì. Si dice nei libri di economia che la moneta esiste o è stata inventata per soperire al baratto, per sostituire il baratto. Il baratto spiega tutti cos'è. Io ho bisogno di qualche cosa, A ha bisogno di qualche cosa che B A, e B ha bisogno di qualche cosa che A si fa un baratto, si stringe le mani e via. Ma cosa succede quando A vuole qualcosa che B A, e B non vuole niente di quello che A. B vuole qualcosa da C. A paga con denaro B. A questo punto i più credono che il baratto sia stato sostituito, ma no, non è la fine. B ancora non ha quello che vuole. Ma dove lo ottiene? Lo ottiene da C. Come? Con lo stesso denaro che gli ha dato A. E quindi quando B paga C per quello che vuole, il baratto è completo. E a questo punto dov'è il denaro? Né nelle mani di A, né in quelle di B e quelle di C. Cioè il denaro ha finito la sua funzione di strumento di scambio. E si trova circolando da un'altra parte. Quindi se il denaro è a mezzo di scambio dovrebbe comportarsi così. Però dicono in bioeconomia che il denaro ha la seconda funzione. Quindi la prima funzione è quella di permettere lo scambio. Permettere lo scambio. Quando il baratto diviene inconveniente o troppo difficile, permette lo scambio. Però dicono i libri di economia che il denaro ha una seconda funzione che è di riserva di valore. O porta valori, che è l'altezza costa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il denaro si può risparmiare, cioè si può tirare fuori dalla circolazione e usarlo per altri scopi. Non per comprare, ma per fare altro. Nella fattispecie, se chi ha denaro lo tira fuori dall'economia e c'è chi ne ha bisogno ed è disposto a pagare un tributo a chi ce l'ha tesorizzato, questo gli fa avere il denaro a un certo prezzo. Qui si ha l'entrata in scena e l'usura. Quindi un certo prezzo vuol dire che il denaro diventa merce? Esattamente, il denaro è adesso merce. Quindi da mezzo di scambio diventa merce adesso stesso. Ora, il tributo che chi ha bisogno di mezzo di scambio deve pagare a chi lo tesorizza come riserva di valore è l'usura. La definiamo anche l'usura? L'abbiamo definito appena adesso, è un tributo. È un tributo. È un tributo. Questo tributo nasce allo scambio, non nasce ai prestiti. Solo secondariamente va ai prestiti, ma nasce agli scambi. Esempio. Chiunque abbia denaro contante e si recchi a un mercato ortofrutticolo verso il mezzogiorno o anche dopo, qualunque terrata ancora in vendita la potrà acquisterà a prezzo stracciato per lui comanda. Non è più questione di barattare, di fare scambio, di mercanteggiare, non si mercanteggia più. Il prezzo da pagare per il mercante è che si veda distrurre quella derrata prima di sera perché avvicisce o sparisce eccetera. Quindi lo potrà acquistare chi vuole, lo può acquistare al prezzo che vuole. Questa è l'usura. Questa definizione di usura non è quella tradizionale, è quella di Silvio Geser, mercante tedesco trasferitosi in Argentina negli anni 1880-90, nel secolo primo di quello passato, e che studiò questioni monetarie non dai libri di economia, ma dalla vita reale, da quello che lui faceva. E fu il primo a definire l'usura così rigorosamente come l'ho appena definita. ripeto il tributo che chi ha bisogno di denaro come mezzo di scambio per viverci deve pagare a chi lo tesaurizza, lo stesso denaro, come riserva di valori. Questo perché? Perché mezzo di scambio e riserva di valore sono due funzioni contraddittorie, cioè se una è vera l'altra è falsa e se una è falsa l'altra è necessariamente vera, quindi c'è una contraddizione reale, totale, un'opposizione tra i due. Questo lo si può verificare anche da sé. Perché da strumento di misura diventa... No, 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 strumento di misura è una terza descrizione, ma qui non ci interessa. Non ci interessa. Quello che ci interessa sono quelle due, le due contraddizioni. Mezzo di scambio e riserva di valori. Cioè quello che è mezzo di scambio e mezzo di risparmio, quello che si chiama risparmio. Allora, normalmente la gente crede che il risparmio sia una virtù, che sia qualcosa di lodevole e qualcosa che il risparmio si mette da parte, il denaro che si mette da parte per spenderlo più tardi in quello che si vuole, eccetera. Non si riflette che così facendo si azzoppa l'economia, perché il denaro che non ciclo ha delle rate che rimangono invendute, mercanti che devono andare a casa senza i proventi del loro lavoro, senza i frutti del loro lavoro. E quindi persone in difficoltà per la mancanza di mezzo di scambio. E questo innesca poi una serie di altre catenze, una serie di altre conseguenze. Questo è il problema fondamentale del denaro. Questo doppia funzione, una naturale, o meglio dire, un'artificiale ma benevola, e l'altra completamente parassitaria e distruttrice degli scambi commerciali. Che consiste nel tesorizzare e poi di concedere il prestito o in uso in cambio di un tributo. Come si chiama questo tributo? Il nome reale è usura. Il nome politicamente corretto è interesse. Qual è la differenza se lo si chiama usura o se lo si chiama interesse? La differenza l'ha fatta e si può ancora trovare in una enciclica di Papa Benedetto XIV che risale a 260 anni fa, al 1745. È molto semplice. L'usura è il prezzo del denaro come derci. L'interesse è l'onorario che uno paga a chi te lo presta per il lavoro che ha fatto nel resimulare la somma necessaria e per prestarla. Quindi nel primo caso sarebbe un prezzo, nel secondo caso una commissione. Una commissione. E quindi, come dice giustamente il Papa, il secondo è legittimo, l'interesse è legittimo, l'usura non lo è. L'interesse come commissione? Come commissione è legittimo, cioè tu paghi proprio un lavoro fatto. Nell'altro tu paghi per l'impressione del denaro, questo è illegittimo, è immorale, è condannabile. Scusa però Silvano, ma nell'enciclica del Papa l'interesse aveva lo stesso significato che l'interesse è oggi? Oggi l'interesse comprende le due cose. Quando si parla di interesse oggi si parla di una somma di interesse e di usura che non vengono distinte. 260 anni fa si poteva ancora parlare della distinzione tra le due. Oggi però le si confonde, ma non si parla più di usura. O se si parla di usura la si definisce in maniera irreale. Ma beh, si parla di usura oggi quando si parla di un certo tetto che la legge stessa avrebbe fissato, quindi al di sotto è interesse, al di sopra è interesse che supera un certo tasso soglia e viene definito usura. Esatto, ma questo solo se il tetto è definito dalla legge, allora si ha un punto di riferimento che può cambiare. Cambia, non è che può cambiare, di recente è stato cambiato. Però se lo si lascia così, in sospeso, è impossibile definire perché quando comincia l'accesso? È la stessa domanda che si può fare chiedendo quando un certo numero di peli sul mento di l'uomo diventa lo barba. Quando? Quando sono 5, 6, 500? Quindi non si sta parlando rigorosamente, è impossibile fare delle conclusioni quando il legge è così vago. Mentre la definizione di Gesell, quella del tributo, è chiarissima, è irrefragabile. Ora cosa succede? Che il punto che dicevo prima, quello delle cifre del Regno Unito, dà una differenza sconcertante tra la quantità di contante e la quantità di credito bancario, sconcertante, da 1 a 40, da 1 a 50. e qui c'è un secondo problema che è stato introdotto, fu introdotto infatti 150 anni prima, 140 anni prima dell'enciclica di Papa Benedetto, quando il Banco di Amsterdam per 1609 introdusse quello che oggi si conosce come riserva frazionaria e come credito, cioè come autorizzazione a stampare denaro da parte dei prestatari della banca. Ora, già la terminologia è fravoletta, per prestare qualcosa io me ne devo disfare, me ne devo disfare e darla a un altro per un tempo, fargli pagare qualcosa se c'è un accordo e poi riaverla quando quello ha finito di usare. Io ho una casa, l'affitto, l'affittuario mi paga il canone che sia, alla fine dell'affitto la restituisce a me eccetera, questo è perfetto. però nel caso del denaro, nel caso del denaro si presta quando ci si priva di denaro fisico e lo si dà a un altro. Ma quando Papa Benedetto fece quello in ciglia, questo non succedeva più da 140 anni, le banche dicono di prestare, ma non prestano, non si privano di niente, non si privano di assolutamente niente, quindi il cosiddetto predito bancario è in realtà una forma di magia, è un'abracadabra, un'abracadabra, la banca dice abracadabra e il prestatario crede di aver avuto in prestito una certa somma di denaro e si impegna a restituirlo, non c'è niente a restituire, non è mai stato dato niente. Cosa gli è stato dato? Gli sono state date due cifre messe nei libri della banca, uno, deposito tanto, prestito tanto, di cittura uguale, è un libretto di assegni. Quando il prestatario firma il primo libretto di assegni, immette nel mercato per la prima volta denaro dal nulla, autorizzato non dai poteri pubblici ma dalla banca e questo lo si chiama credito bancario, in realtà è una forma di magia perché è denaro che viene dal nulla, appare così dal nulla e quello che è prestito, che si chiama prestito non è affatto un prestito, lo si può chiamare un incantesimo, un incantesimo, quindi siamo soggetti a questo incantesimo, è un incantesimo che fa credere al prestatario di aver ricevuto effettivamente un prestito quando non ha ricevuto assolutamente niente, non solo, ma su quel incantesimo la banca vuole interessi che però non permette al prestatario di emettere e da dove viene con l'interesse? Con l'interesse che in realtà non dovremmo definire interesse, non dovremmo definire usura. Da dove viene con l'usura? Tolti quei po' di commissioni che bisognerebbe dare. O tre cose, o che il prestatario lavora più di quanto lavora prima per produrre l'eccesso da pagare alla banca, o da fare andare qualcun altro in bancarotta perché se dieci persone prendono 10 ciascuno in prestito, prestito tra virgolette, 10 per 10 fa 100, poi devono restituire 110. Gli extra 10 da dove vengono? Deve venire da uno di loro. Quindi è matematicamente certo che con questo sistema prima o poi un operatore economico e poi un altro e poi un altro devono andare in bancarotta. Quindi qualcuno deve soccombere. Qualcuno deve soccombere, non c'è uscita, ma c'è di peggio. Così come il denaro entra in esistenza nel momento della firma di un segno, così sparisce quando chi l'ha chiesto in prestito e chi l'ha avuto in prestito lo restituisce di nuovo tra virgolette alla banca. Il denaro sparisce nel nulla, viene obliterato, non circola più. E dove finisce? Finisce o in un conto che non viene più usato, oppure cancellato dai libri della banca, oppure in qualche maniera o in un'altra quel denaro non farà più parte dell'economia in nessuna radiera. Il che vuol dire che se più gente, se più prestatari restituiscono alle banche di quelli che credono in prestito, si crea una deflazione e la gente non ha denaro per comprare le cose essenziali. È un sistema di impoverimento deliberato, non lo so, a reale sì. Quindi tu hai detto in realtà che nel momento in cui, usiamo questi termini, la banca con c'è di prestito in realtà è un incantesimo, chi è soggetto a questo incantesimo nel momento in cui crede e accetta questo incantesimo e mette in circolazione quel, tra virgolette, denaro, è in quel momento stesso che si crea. È in quel momento stesso, esatto. Quindi è chi lo usa che lo sta creando. Chi lo usa lo sta creando. Perché fino a poco prima, fino a che non viene usato, è solo un incantesimo. Solo un incantesimo, esattamente. Ora, se chi chiede in prestito... Quindi le banche non creano denaro, le banche creano un incantesimo e siamo noi che creiamo denaro. Esattamente. Chi crea denaro è il firmatario dell'assegna, sotto l'autorizzazione del manager della banca. Questo è esattamente così. Ora, cosa succede a questo punto? Che quando il Papa Benedetto pubblicò l'enciclica sull'usura, incidentalmente è la primissima enciclica della Chiesa e che dovrebbe apparire nella dottrina sociale, ma per un altro mistero che non sono mai riuscito a scoprire, non è mai apparsa. Parli dell'enciclica di Leone XIII? No, dell'enciclica di Benedetto XIV. No, no, dovevano apparire anche in quelle di Leone XIII magari. No, quelle non apparse. Ah, quelle sono apparse. Si comincia con Leone XIII. Si sarebbe dovuto cominciare con Benedetto XIV, perché la questione dell'usura è molto più importante di quelle di cui tratta Leone XIII, ma la Chiesa non si è più pronunciata su questo problema e l'usura la fa da assoluta padrona. Benissimo. Assoluta padrona. Tutto quello che si compra, per quanto piccolo o insignificante semplice, è tutto caricato di usura e si paga usura in tutti i prezzi di tutte le derrate, di tutti i beni mobili, immobili, eccetera. E questa è l'usura che sta mangiando e sta rovinando il mondo in questo momento. Ora, stavo parlando della magia e degli incantesimi. Quindi cosa succede qui? Se chi chiede in prestito, chi emette denaro e cede il numero, quelli che loro restituiscono, cosa avviene? Inflazione. Se il contrario, cosa avviene? La deflazione. È possibile predire quello che avviene? Assolutamente no, perché tutto ciò avviene completamente a casaccio. Se le banche gli danno simpatia a certi prestatori o se hanno una politica di prestiti, c'è abbondanza di potere d'acquisto e c'è quello che la gente chiama inflazione. Che però è un termine sbagliato, perché cosa succede? È che i prezzi aumentano, non perché ci sia più denaro in circolazione, ma perché chi vende deve far pagare a chi compra l'interesse che lui paga il debito. E quindi i prezzi aumentano costantemente, non decrescono mai. Altro canto, se i prezzi decrescono, quello che succede, è un disastro per chi produce. Perché chi produce con una deflazione rampante o galoppante va in bancarotta, non c'è niente da fare. Quindi nella deflazione e nell'inflazione sono beneficiotti per l'economia, ma sono tutte e due disastrosi. Il denaro ha bisogno di essere stabile. Il potere d'acquisto ha bisogno di essere stabile. Non lo è per questa ragione. E qual è il rimedio a questo? Bisogna anche domandarsi perché le banche hanno ottenuto questo privilegio di produrre denaro e di prestarlo allo Stato, e lo Stato tazza i cittadini per pagare gli interessi. E da Napoleone in poi. Non si dimentichi quando ci si chiede fu vera gloria ai posti di l'ardo sentenza, la poesia di famosa di Monsonso, 5 maggio. Si fu vera gloria, lo fu. Perché Napoleone fu l'ultimo uomo di Stato, perlomeno europeo, che ebbe il coraggio di combattere l'usura mano militari. E non la seconda fase della sua. Tentando di sconfiggerla sul campo aperto. Non ci dici per varie regioni che non andiamo a esaminare qui. Ma comunque la scompitta di Napoleone segnò l'inizio del regno dell'usura sull'Europa prima e poi su tutto il mondo d'Europa. E' possibile cambiare? E' possibile far tornare il denaro, farli insalire e troverlo a servo dell'economia invece che a padrone? E' possibile, ma ci sono delle misure da prendere che bisognerebbe avere il coraggio politico di prendere. E questo coraggio politico non è chiaro chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Il fatto è che gente come Lincoln, che prese una decisione così per combattere la guerra di secessione e fece stampare denaro direttamente dal tesoro senza passare per il sistema bancario, sappiamo come finì. E dopo lui ci sono altri presidenti americani come Garfield, McKinley e anche Kennedy che aveva ordinato 4 miliardi di emissione di contante direttamente dal tesoro. E poi ci sono altri paesi in cui è successa la stessa cosa. Insomma, bisognerebbe che si ritornasse al sistema di contante emesso dal governo, non dallo Stato, ma dal governo perché è funzione di governo emettere la finanza con cui pagare le tassazioni. Il governo ha il diritto di chiedere tasse, a questo diritto corrisponde il dovere di emettere il mezzo di scambio, il mezzo di pagamento delle tasse, questo il governo non lo fa. Invece prende potere d'acquisto in prestito dalle banche e poi fa pagare tasse per pagare l'interesse di questo potere d'acquisto. E la cosa più disastrosa è che quella quantità enorme di denaro che è la prima tranche del bilancio di Stato e che va a finire in ripagamento del debito pubblico, quando raggiunge le banche viene distrutta, distrutta, sparisce nel nulla. Molto interessante. Questo è quello che aggioppa ai popoli e che non dà alla gente la possibilità di sopperire ai primi sogni. Scusa Silvano, visto che noi abbiamo dato un po' la definizione di denaro, la definizione di interesse, la definizione di usura, di debito, eccetera. Io mi ritrovo qua sotto mano un libro di Silvio Gesell. Il valore del denaro è per una quantità veramente notevole di pagine che si sofferma sul valore del denaro. Puoi spiegare questo concetto di valore del denaro? Il termine valore, lui poi argomenta in un'altra pagina, è un termine un po' ambiguo e insicuro. Bisognerebbe parlare di equivalente. Qual è l'equivalente di una certa somma di denaro con una certa quantità di derrate. Questo è quello che lui vuole dire. Effettivamente lo fa istituendo un indice da tenere la cui contabilità viene tenuta dagli uffici dello Stato che dà l'idea di quello che potrebbe essere il valore di acquisto del denaro. Ma quello che è importante è un'altra cosa, è che il trasferimento del potere di acquisto dal contante al credito, dal contante agli incantesimi, ha fatto sparire dalla circolazione l'artigianato e la piccola proprietà contadina. Perché? Perché questi operatori economici hanno bisogno di contante. L'artigiano non può vendere a credito, ha bisogno di contante per pagare le materie prime, per pagare i dipendenti, per i bisogni immediati e quindi ha bisogno di denaro che circoli. Questo denaro il credito glielo nega. Perché glielo nega? Per due ragioni. La prima è che lui non ha collaterale o quello che ha alla banca non interessa. E poi perché sarebbe una seccatura da parte delle banche a mettersi a fare con gente che fa girare pochi spiccioli. Le banche vogliono i grandi clienti, quelli che vanno milioni o miliardi eccetera. E quindi l'artigiano indifeso è sparito. Questa è una perdita enorme per la cultura di un paese. Per esempio l'altro giorno vedevo a Trieste un negozio di calzature delle quali esiste l'equivalente anche in Africa, infatti esiste in tutto il mondo. Ricordo che molti anni fa, quasi 40 anni fa, feci da interprete a un padrone di un calzaturificio italiano che al tempo produceva 15.000 paia di scarpe al giorno. Ed era il quarto d'Italia, mi disse. Non ero manco il primo. Siamo negli anni 70. Era venuto in Kenia a comprare pelli e gli feci da interprete. E con gli anni mi andavo domandando, ma dico questo signore che produce 15.000 paia di scarpe al giorno impiegando un centinaio, un migliaio di impiegati, di operatori con macchinaria poventosa, perché invece non fa lavorare 15.000 calzolai ognuno dei quali produce non in un giorno, ma forse in tre o quattro, un paio di scarpe diverse dall'altro secondo un disegno originale, però in tutti i boutique. E dà impiego a 15.000 persone. Con che criterio si favorisce la grande industria delle cose essenziali, cioè la grande industria del cibo, la grande industria del vestito e della calzatura e quella della costruzione a queste enormi società o multinazionali, come le si vuole chiamare, perché la qualità dell'artigiano che fa le scarpe a mano è infinitamente superiore a quella delle scarpe fatte a macchina. E se l'artigiano avesse avuto contante sarebbe stato in condizioni di far fronte all'attacco delle grandi imprese che invece lo hanno sostituito. Ma non sono stato loro a farlo sparire, è stata la mancanza di contante, la mancanza di contante. Quanto il denaro coincide nella realtà. Esatto. Ora, il piccolo contadino, l'agricoltura di sussistenza, deligrata, insultata, esalturata nel vivere economia, eccetera, è in realtà un'agricoltura venti volte più produttiva di quella estensiva. Però non è efficiente, ma efficiente in termini di cosa? Efficiente in termini finanziari, ma non in termini di produzione. Ma in termini di qualità? In termini di qualità è infinitamente superiore. Solo che però tutto quello che l'agricoltura è tutto in un posto ed è mischiato. E allora bisognerebbe smistarlo, eccetera. Ma l'agricoltura di sussistenza è di gran lunga di qualità superiore, ma anche è una nemica diretta dall'usura. l'usura a tre nemici naturali, che vengono trattati da Silvio Geselli, precisamente nel suo libro. Il primo è il baratto, perché quando il tasso di interesse o il tasso di usura eccede a un certo tetto, la gente vede che non ce la vuole fare e comincia a barattare. Questo succede in Africa oggi. Il secondo è l'agricoltura di sussistenza. L'agricoltura di sussistenza, quello che produce tutto quello di cui ha bisogno in una piccola proprietà, è nemico dell'usura, perché è libero. E l'usura sta facendo di tutto per distruggerlo. Mi veniva detto proprio ieri, l'altro ieri a Udine, che gli agricoltori del Friuli erano stati, uno dopo l'altro, privati del loro bestiame per la politica deliberata, per aprire le loro terre alle continuazioni multinazionali. E quindi si è distrutta deliberatamente la piccola proprietà contadina e l'agricoltura di sussistenza. Il terzo nemico dell'usura, il terzo nemico dell'usura è la cambiata. La cambiata. Criminalizzata. La cambiata che capita pochissimo. Pochissimo perché è stata tanto criminalizzata dalla legislazione e dagli attacchi del sistema bancario che se ne è perduta la nozione dell'importanza. Per cui va raccontata la storia delle taglie. Taglie che non ha niente a che vedere con le taglie messe sui criminali, le misure, ma è una trascrizione, non una traduzione, del termine inglese Tully, Tully Sticks. Tully in inglese vuol dire combacia. Combacia. Cosa combaciava? Combaciava le due metà di una stecca di legno mezzo duro, di nocciolo per esempio, o di quello che fosse, dove le transazioni venivano registrate con intacchi laterali di certe dimensioni se corrispondessero a Sterline, Scellini o Pence nella vecchia Inghilterra a cominciare dall'anno 1100. Già si usavano le taglie nell'anno 1100 e quando venne al potere il secondo genito di Guglielmo Conquistatore, Enrico I, ebbe il genio di accettare quelle taglie in pagamento di imposte, cioè il governo del re favoriva l'emissione delle taglie perché considerava giustamente che rappresentavano ricchezza reale prodotta da chiunque, poteva essere una bazia, a quei tempi i coltivatori diretti piccoli non c'erano e tutti lavoravano per i grandi padroni feudali o per le abbazie. Ma comunque queste taglie circolavano e erano infalsificabili perché quando si facevano combattere le due parti il combattio era unico. Una parte veniva accettata dallo scacchiere con il pagamento di imposte e l'altra circolava come contante. quando arrivano al potere i Lancaster dopo la guerra delle Rose nel 1485 entrarono in lizza le banche, le prime banche prudimentali, cioè si resero immediatamente conto che queste taglie erano un ostacolo per la loro egemonia e fece una lotta senza quartiere alle taglie che però ci vogliono più di due secoli per eliminare. Queste taglie tenero banco in Inghilterra per 726 anni, dal 1100 al 1826, un record, un record imbattuto, neanche il besante di Costantinopoli è riuscito a battere il record delle taglie inglesi. E quindi cosa volevano le banche? Eliminarle. E ci riuscirono nel 1826 con un atto del Parlamento che le dichiarò illegali e fuori corso. Questo dopo un secolo e mezzo dalla fondazione della Banca di Inghilterra che avvenne nel 1694 con tutti i sanno. Quindi la Banca di Inghilterra ci si mise di buzzo buono e finalmente riuscì a far eliminare questi strumenti utilissimi di credito emessi da chi produce ricchezza e fatti circolare come in sostituzione di un contante scarso che non c'era. E dove andavano a finire tutte le taglie? Perché erano migliaia di pezzi di regno, andavano a finire nei magazzini del Parlamento, Parlamento Britannico, a Londra. Otto anni dopo, 1834, un mermidone del sistema bancario gli venne in mente di disfarsene bruciandole. E dove volle bruciarle? Nei cammini del Parlamento. Ma le taglie si vendicarono di mala maniera perché essendo legno stagionetissimo, secco e di una superficie immensa, a piccol fuoco il Parlamento l'ho raso al suolo. Ma in questione di ore, insomma. E il Parlamento infatti venne ridisegnato e costruito nel 1840 dall'architetto inglese, cattolico, Pugin, chiama Pugin, e che è quello che vediamo oggi. Ed è sparino alla circolazione. Quello che diceva Gesellici è che un governo che è conscio del suo potere monetario, della sua sovranità monetaria, non ostacola le taglie, non le tassa, anzi le sussidia. Le sussidia perché riconosce che chi emette una cambiale è detentore di una ricchezza reale prodotta dal suo lavoro. E quindi che le cambiali non dovrebbero mai andare in protesto. Se vanno in protesto è per favorire il sistema bancario, che le odia, che non le vuole in giro, che le demonizza, che le ostacola. Quindi il potere politico dovrebbe imporsi al sistema bancario facendo circolare quante più cambiali possibili. Fino a poco fa avveniva questo anche in Italia, fino a quando fu proibito per legge fare circolare le cambiali allo scoperto, come si dice, scoperto niente. Le cambiali non vanno allo scoperto o al coperto. Quelli sono termini fraudolenti usati per attaccare le cambiali al sistema bancario e al sistema monetario del governo attivo. Come se le banconote fossero coperte. Le banconote sono coperte dall'economia nazionale, non sono coperte da un loro. C'è ancora chi si ostina a dire, dopo 25 secoli, che a meno che una moneta non si è coperta dal metallo prezioso, oro non vale niente, non è una moneta onesta. Questo tradisce una mancanza totale di comprendono della questione. Che c'entra l'oro? Come diceva Gasset. Gasset dice, io l'oro, però l'oro va trovato, trovato, trovato. Lui dice in tedesco, che funde, che funde, che funde. E come si fa a far dipendere un'economia cosa che devi trovare. E se non la trovi l'economia della fossa, finisce. No, la moneta va emessa dal potere statale, dal potere governativo, dall'esecutivo. Non lo sta, dall'esecutivo, esattamente. Va emessa dall'esecutivo e poi va accettata dagli operatori economici. Ora, cosa fa una moneta valida e circolante, eccetera? Non l'emissione ma l'accettazione. È l'accettazione che determina che una moneta funzioni in un'economia o no. Se non c'è accettazione non c'è economia. Un esempio di questo, che è anche un esempio ridico, ma ridico nel senso etimologico, che fa ridere. È la moneta coloniale germanica, negli anni, cento anni fa, durante la Prima Guerra Mondiale. Quando l'esercito germanico del Tanganyika fu costretto a fuggire da Dara Salaam e mantenne un esercito venti volte più numeroso, correndo da un lato all'altro dell'Africa senza mai arrendersi, il governatore, Herr Schnee, decise che ci dovevano portare indietro non so quante, 4 o 5 casse di banconote coloniali. E il generale von Lethoff, che non era economista però che capiva le cose, disse, governatore, questo denaro non viene accettato da nessuna parte, non serve a niente, è inutile. Lasciamolo indietro, se no bruciamo. No, 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 il governatore aveva la superstizione di Creso, che il denaro deve avere valore intrinseco e ha valore intrinseco anche se è fatto di carta, quindi portiamola. E dei portatori, poverà, degli africani dovessero caricarsi ste casse sulla testa per 4.000 km altri di Savana, fino a quando il governatore dovette arrendersi all'evidenza che quella moneta non serviva proprio a niente. E Folletto, come aveva promesso, appiccò il fuoco tutta quella carta sotto un albero non so dove. Tu sei parlato di valore intrinseco, puoi spiegare questo concetto di valore intrinseco? Il valore del pezzo di carta o del pezzo di oro o del pazzo del pezzo che ha una moneta. Ma ci si domandi, se voi aveste una moneta d'oro, lo spendereste. Chi ha una moneta d'oro quando la mette in tasca e crede che sia un tesoro, non lo spende. E quindi l'economia viene azzoppata dall'eliminazione della moneta dalla circolazione. Quindi dal valore convenzionale, non intrinseco. Questo è intrinseco, il valore intrinseco, il valore del pezzo di... Sì, sì, in questo caso insieme. Mentre il valore nominale, il valore facciale, è quello che impone le autorità. Anche quando la moneta era fatta di... metallo prezioso, il valore facciale sempre superava quello intrinseco, perché se no la moneta l'avrebbero fusa e faccia altre cose con la moneta. Questo è vero. Ora, la soluzione di questo è che una moneta incontante, quanto meno valore intrinseco ha, tanto più favorisce l'economia. E questo lo si può verificare inc e lunga. Guardatevi nel portafoglio e trovate due monete di uguale taglio, ma una nuova di zecca e l'altra vecchia, sporca e puzzolente. Quale delle due spendete prima? Probabilmente quella vecchia e sporca. Il che vuol dire che quella favorisce l'economia molto di più di quella nuova. Ma quella nuova ha più valore intrinseco, perché non la tesaurizza, eccetera. E questo è sempre stato così. Non si può utilizzare un mezzo che ha un valore intrinseco elevato? Non che non si può usare, non si dovrebbe usare. Ora, qual è la soluzione che propone Gesell? Gesell fa un'osservazione evidente, quando la leggi non puoi far a meno di non accettarla, che le derrate, siano quali siano, non sia che siano derrate alimentari o di moda o quello che sia, scarpe, eccetera, soffrono un deterioro naturale, che o si ammuffiscono, o passano di moda, o le tarme se le mangiano, o i ladri li rubano, o viene un acquazzone alla rovina perché sono sempre oggetti che subiscono un deperimento naturale. Il denaro no, il denaro non subisce un deperimento naturale, perché uno se lo può tenere in tasca, torna, può aspettare di comprare mesi, anni e poi va a comprare e può imporre il suo prezzo a chi vende. È l'usura, questa è l'usura. Proudhon, che apparteneva a una generazione prima di Gesell, si era accorto dello stesso problema e infatti diceva che il denaro non è la chiave che apre le porte del mercato, è il chiavistello che le sbarra. Aveva ragione, però come soluzione propose di far salire il valore delle derrate a quello del denaro, inventando un sistema di banche di prestito eccetera, e gli fa lì, non riuscì, perché effettivamente l'operazione è troppo onerosa e costa molto di più di quello che rende e quindi la cosa fa lì. Gesell propose esattamente l'opposto, cioè fa scendere il denaro al livello delle derrate, imponendo al denaro un deperimento artificiale che permettesse di farlo circolare forzosamente, cioè invece di basarsi sulla quantità di denaro si basava sulla velocità di circolazione. Perché la velocità è così importante? Perché quante volte più circola più bene dei servizi scambi. Se tu hai una moneta da 100 euro e la fai circolare diciamo una volta muove 100 euro di beni e servizi, ma se la moneta di 100 euro in un anno tu la fai circolare mille volte e muove i servizi per 100.000 euro, la stessa moneta, il stesso pezzo di carta. Ecco perché la velocità di circolazione gira, 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 fa tramite precisamente e questo a cui bisogna tendere. Cosa propose Gesell? Propose di mettere una moneta con 12 caselle per i 12 mesi dell'anno e in ciascuna di queste caselle di appiccicare ogni mese un bollino per una certa quantità, una certa percentuale del valore luminale. Lui proponeva 0,1% per settimana, è troppo complicato e non lo fai ogni settimana. Quando la cosa si sperimentò due anni dopo la morte di Gesell, nel 1932, applicarono un tasso di depredimento di 1% al mese, cioè 12% all'anno, che era ragionevole. C'è un interesse negativo per cui tu hai interesse a sbarazzarmi, a sbarazzarmi, a sbarazzarmi, a chi fa la circolare. Alla fine dell'anno si rinnova con un nuovo pezzo di moneta dall'autorità emittente. Questo sistema è stato effettivamente applicato quasi 90 anni fa. E impedisce anche la tesorizzazione. E impedisce anche la tesorizzazione e impedisce l'usura. E elimina l'usura. Geniale. Elimina l'interesse ed elimina il debito allo stesso tempo. Certo. Quindi geniale. Geniale, geniale. Ora, in Austria negli anni 30, Gesell morì nel 1930. Due anni dopo, nel 1932, si era in piena depressione economica, dovuta a una deflazione programmata delle banche centrali mondiali, decisa a un pranzo fatto a New York tre anni prima. Perché queste cose vengono decise? No, non è importante. Decisa e deliberata. Deflazione che aveva ridotto il contante in tutti questi paesi. In Austria si era passati da 1.032 miliardi di scellini, austriesi, a 800 e qualche cosa. Quindi una deflazione programmata. E naturalmente quello che succede quando c'è una deflazione programmata, il denaro va a finire nei centri finanziari, non va a finire nelle periferie, specialmente nelle zone rurali. Va a finire a Vienna, a Berlino, dove si era. E allora questo borgomastro, il borgomastro di un paesino di 4.000 anime nel Tirolo austriaco che si chiamava Michael Unter-Guckenberg, è il nome bello lungo, mandò una circolare, informò tutti gli operatori economici della zona che se il denaro mancava era perché spariva nell'obbio dell'interesse invece di andare a finire nelle tasche di chi lavorava. E allora ha detto guarda io emetto i miei buoni di lavoro e se voi li accettate in pagamento dei beni e servizi che producete io li accetto in pagamento di tasse. Quello è la chiave del sistema perché circola. Il denaro circola come circola il sangue nel corpo, dal cuore parte al cuore ritorno senza mai fermarsi. Se il sangue si ferma alla morte e se il denaro si ferma è lo stagnamento dell'economia. Con le conseguenze che tutti conosciamo. Quindi quando il borgomastro emise i suoi certificati di lavoro li chiamava, non li chiamava Cellini o non usava termini monetari per non... E poi comunque lo fermarono. Lo fermarono. Però lo fermarono dopo quattordici mesi. Sì. Quattordici mesi di circolazione forzata di 5.300 Cellini, una somma irrisoria. Pochissime. Fecero muovere beni e servizi per 2 milioni e mezzo di Cellini. Per la velocità di circolazione. Deperibilità a velocità di circolazione. Esatto. Poi lo fermarono con quale spediente Silvano? Lo fermarono dicendo che Borgom aveva infranto una legge che garantiva il monopolio alla banca centrale. Il che non era vero perché Borgom non aveva falsificato il denaro. Aveva aggiunto i suoi certificati a Cellini veri che aveva in banca. Il municipio aveva in banca 40 mila Cellini. Lui ne fece stampare 32 mila. Ma questi Cellini potevano cambiarsi con quelli ufficiali in qualunque momento. Cioè non era una imposizione di quello che fosse. Le uniche entità che non accettavano i certificati di Borgom erano l'ufficio postale della ferrovia. statali. E vabbè. Ma era sufficiente perché tutto il resto circolava con i certificati di lavoro. Circolava con i certificati. E finalmente nel settembre novembre del 1933 la circolazione finì. E venne la fame e venne la disoccupazione e poi venne la guerra. E' possibile ripetere l'esperimento? E' possibile. Ma ci vorrebbe un... basterebbe in qualunque parte del mondo. Un solo sindaco. Uno. Che avesse la visione, che fosse un uomo di visione e di azione come fu il Borgomastro di Borgom 90 anni fa. E che mettesse questo. E che ci fosse un'economia moderata di visione di lavoro nel suo comune. E che lui li mettesse e li ricevesse in pagamento d'imposta locale. La prosperità sparerebbe al cielo. I circonvicini si invoglierebbero a imitare. E quindi, diciamo, se gli 8 mila comuni italiani, ognuno, emettesse la sua moneta locale, eliminerebbero la crisi monetaria che ci affligge adesso. Perché l'euro continuerebbe. Però, a livello nazionale, cioè tra un comune e un altro, ma dentro il comune, l'economia locale, avrebbe la sua moneta. La sua moneta di circolare. L'unica condizione è che gli abitanti l'accettassero in pagamento di quello che... Sempre nell'accettazione. Sempre nell'accettazione. La chiave di volta è questa accettazione. Sempre nell'accettazione. Nelle facoltà di economia non si dovrebbe studiare storie dell'economia. Non si dovrebbe sapere che esistono delle soluzioni che sono state praticate e hanno funzionato per ben 50 anni. Tu in un video precedente hai detto dove non si imparano le cose nei libri di scuola. In libri di scuola non si impara niente. Cosa succedeva? Che questi cinque paesi avevano la loro moneta nazionale, però avevano in cima alla moneta nazionale un pezzo di cinque franchi di argento che circolava liberamente tra i cinque paesi. E con questi si pagavano le transazioni internazionali e si misurava se ci fossero degli bilanci commerciali tra un paese e un altro. Se eccedevano la quantità del 40% di massa monetaria evidentemente le esportazioni stavano eccedendo le importazioni. Si correggevano i prezzi e si ritornavano all'equilibrio di prima. Se mancava l'opposto. La cosa funzionava per mezzo secolo, signori. Perché non dovrebbe funzionare oggi? L'euro fa la parte del pezzo dei cinque franchi. E non lo si deve abbandonare come propongono certi ossessi della questione. Bisogna mantenerlo ma affiancarli le monete nazionali che sono state eliminate dal sistema. Quindi da monete nazionali o da monete locali, comunali come abbiamo detto prima? Il sistema funzionerebbe perché funzionava già. Non è una proposta, è una considerazione, un'osservazione di un passato accaduto. No? Si, di un passato già accaduto ma oltretutto l'esperimento, che poi non fu l'esperimento, fu qualcosa che soccorre. Fu la prima guerra mondiale che mandò tutto accaduto. Fu la prima guerra mondiale che mandò tutto accaduto. Fu la prima guerra mondiale che mandò l'aria all'Unione Monetaria Latina. Mentre invece mi pare che noi andiamo nella direzione opposta. Tu hai detto anche per esempio l'artigiano avrebbe bisogno di contanti, mentre noi invece andiamo sempre più nell'eliminazione del contante. L'eliminazione del contante per quanto riguarda la quantità di denaro ce n'è sempre meno in circolazione. Allora, la velocità naturalmente con la crisi viene ridotta. Esattamente. Perché la gente tende, a parte che non ce n'è, ma tende a non spendere, a non spendere il denaro circola. Poi siamo noi stessi ad aggravare comunque la crisi perché tentiamo di tenercelo. Esattamente. Il denaro va speso. Il denaro va speso. Il contante va speso, il contante va speso. Ma a tuo avviso Silvano, come è possibile che di 8000 comuni italiani non c'è nemmeno qualche sindaco illuminato. Da che cosa può dipendere questo? Dall'ignoranza? Dalla paura? Lo so che ti chiedo qualcosa che è difficile e è qui difficile rispondere. Bisognerebbe leggere dentro l'anima del sindaco? Come faccio io? No, perché a qualche sindaco è stato anche proposto. E io? Beh sì, io te lo posso dire per esperienza personale, ma... Non ho elementi di giudizio. Tantissimi dubbi, prima non si capisce, poi man mano che si capisce poi subentra qualcos'altro, poi subentra la paura. Quindi quantomeno c'è una grossissima dose di ignoranza, ma poi quando questa ignoranza viene superata attraverso un'informazione anche semplice, eccetera, poi subentra qualcos'altro perché si cominciano a chiedere, ma se nessuno l'ha fatto perché lo devo fare io. Esatto, se nessuno l'ha fatto perché lo devo fare io. Perché lo devo fare io. Qualcuno deve pure cominciare, no? Pare che attualmente ci sia qualche sindaco fortemente interessato, pare che qualcuno mi stia illustrando un po' questa possibilità, non è una possibilità, è qualcosa di estremamente concreto. Staremo a vedere che succede, anche perché questa crisi o troviamo qualche moneta comunale oppure mi pare che peggiorerà sempre di più, questo è facile fare i profeti in questo caso. Cos'altro potremmo dire? Noi abbiamo parlato di denaro, di interesse di usura, di debito, credito, emissione, accettazione, tutti i concetti fondamentali, valore intrinseco l'abbiamo visto, la velocità di circolazione è fondamentale, abbiamo parlato di quantità anche della circolazione. Sulla velocità di circolazione, un esempio contemporaneo è quello che io ho vissuto in Kenya dal 2007 ad oggi. In Kenya è stata fatta una rivoluzione monetaria con una moneta che si chiama M-Pesa, M vuol dire mobile, cioè cellulare, e Pesa è il termine sfogiri per denaro. Nel 2007, cioè appena sette anni fa, una compagnia telefonica ha istituito un sistema di trasferimento di contante dalla zona finanziaria di Nairobi alle zone rurali, con una serie di chioschi, 7-800 chioschi dove si può depositare una certa somma di denaro, anche piccola, pagare una piccola quantità, fare una telefonata ad un altro chiosco e quell'altro chiosco paga in contanti a chi viene a prendere il denaro identificandosi. Tutto l'operazione prende due minuti, questo nel 2007. Per farla breve, sette anni dopo questi chioschi sono oggi 175 mila e coprono tutto il territorio del paese. si è accorti, si è accorti ben presto, che chi voleva depositare denaro contante nel chiosco, per mandarlo a uno che avesse anche lui un telefono cellulare, non aveva bisogno di depositare denaro fisicamente al chiosco, glielo trasferiva direttamente. Ebbene, questa maniera di far circolare denaro come impulsi elettronici da un cellulare all'altro, l'anno scorso 2013 ha fatto muovere una massa monetaria di 5 miliardi di scellini del Kenya al giorno, superando in tutto l'anno il bilancio statale. Il bilancio statale è stato inferiore al numero di transazioni fatte occorrere per telefonia mobile. Questo evidentemente, le banche sono state prese in contropiede e hanno attentato le vie legali per eliminarlo, ma il giudice ha deciso in una sentenza che questo sistema di trasferimento non duplicava nessuna funzione bancaria e quindi era legale. La gente si è anche accorta che è molto più sicuro tenersi il suo denaro nel telefono o nel cellulare che mettono in un conto in banca perché non te lo tocca nessuno e tu solo hai accesso con un codice, nessun altro. E quindi la cosa ha fatto sparare all'economia e si produce, si vende, si costruisce in maniera veramente impressionante. Negli altri paesi questo non succede perché il sistema bancario ci è equalizzato per non farlo succedere, ma se dovesse succedere sarebbe veramente una rivoluzione, nel senso giusto, nel senso buono. Altre rivoluzioni, Silvano, sarebbe riuscire a capire un po' quanto è giusta l'attuale sistema di tassazione e poi c'è un'altra questione che ti sta molto a cuore che è la questione fondiaria. Questa ne parleremo. Esatto, io direi di fermarci qua se tu sei d'accordo con quanto abbiamo detto finora e poi magari di riprendere una seconda parte dove magari affronteremo appunto la questione della tassazione e anche la questione fondiaria che tu ritieni centrale rispetto a tantissime altre cose. Tanto quanto quella monetaria. Tanto quanto quella monetaria. sono le due ali che non permettono all'economia di decollare. E non decollano perché sono appiccicate al corpo, non perché non esistono. Quindi farle dispiegare e permettere all'economia di decollare sono la questione fondiaria e quella monetaria. E ti dirò che ci siamo detti anche in private che tutti meravigli che questa questione fondiaria non sia stata affrontata in maniera mai complessa. Non è mai stata affrontata. Forse non si è capito l'importanza della questione fondiaria. Assolutamente. Grazie Silvano e a tra poco. A tra poco.